Spieghiamo perché avete scelto di destinare i soldi derivanti da questi programmi integrati, soprattutto dell'ex Mirage per la riqualificazione di Viale Gusmini e non una struttura sportiva. Il gruppo, e quindi non è una decisione personale, ma il gruppo ha deciso, come ben detto, di riqualificare quell'area, quindi di sistemare quell'attraversamento. È un'opera di interesse generale, un'opera che comunque rivitalizza e riqualifica la città di Clusone. Quindi la scelta è ricaduta lì e questa è stata la decisione del gruppo di maggioranza. Perché proprio quel Viale? Perché quel Viale è oramai un qualcosa da centro storico, ha la necessità di essere un attraversamento urbano, ha la necessità di dare una continuità alla piazza Manzù, ha la necessità di legare assieme la vecchia città alta, la città bassa, visto che l'utilizzo della nuova provinciale deve portare che lì qualcuno che entra vede delle attività commerciali, vedrà delle attività commerciali, vede un comparto quali le scuole, vede un comparto come la biblioteca, vede un comparto come l'oratorio, cioè lì deve essere un qualcosa che dà un segno di presenza e di vita forte della città di Clusone. Come vi ponete rispetto alla richiesta di referendum avanzata da alcuni cittadini? Ma ne è stata avanzata una settimana scorsa, la Commissione si è espressa, ne hanno ripresentato un'altra quest'oggi. Da lunedì inizieremo a lavorare anche quello, spiace che nessuno segnali e sottolinei quanto lavoro sia stato necessario per portare quello che stasera è arrivato in Consiglio Comunale. Gli incontri che sono stati fatti con gli imprenditori al fine di riuscire a portare questa situazione a Clusone, di poter dar vita a Clusone, perché come voglio ribadire, questi standard che verranno utilizzati dall'amministrazione potevano essere rivisti e modificati. Sono riusciti e siamo riusciti a mantenerli, a differenza di owner di urbanizzazione, già versati e già destinati, non so dove, negli anni 2008-2010, per un importo che va intorno a 1.800.000 euro. Quindi, positiva sotto tanti aspetti, c'è sempre e c'è tanto da lavorare. Ribadisco che da lunedì valuteremo anche la situazione del referendum del palazzetto. Colina San Giorgio, risolti i problemi che sabato avevano portato a rinviare la votazione? Sì, il parere sia del... Allora, i consiglieri gradivano avere un aspetto, un parere anche sotto l'aspetto tecnico, contabile e del segretario, soprattutto di un parere regale. Bene, le prescrizioni e quelli che abbiamo avuto sono state inserite nella delibera, quindi le indicazioni sono state inserite nella delibera. Altro lavoro da fare è riuscire a convincere l'imprenditore dalla bontà di investire sulla città di Clusone e quindi di chiudere prima possibile anche questa convenzione cercando di mantenere ciò che siamo riusciti a strappare.